Sette mari club, che splendida vacanza, sette mari club, di sole e allegria, sette mari club, risate in abbondanza, con sette mari un ricordo speciale sarà. Amici di Floriana TV, ben ritrovati per una puntata speciale, quest'oggi episodio d'eccezione dedicato ad Halloween. Per l'occasione presenta Merlino Menzoni. Cos'è che le provoca divertimento? Vabbè cosa mi provo divertimento tutto, tutto l'insieme. Ma lei lo sa che oggi è la festa di Halloween? Non lo sapevo. No. Ti piace Halloween? No. Abbiamo una domanda per te, qual è il pesce più dark del Mar Rosso? Per l'occasione presenta Merlino Menzoni. No! No! No!